Ciao, sono Nicola Dantino, gioco nella palla mano per il Sano. Ieri abbiamo fatto una partita contro la Gundo, una squadra di A2. Una squadra che sa giocare a palla mano, non era male. Il primo tempo ha finito 12-11 per noi, eravamo in vantaggio. Nel secondo tempo siamo leggermente peggiorati, abbiamo perso un po' di palloni, non abbiamo avuto una percentuale di tiro molto alta e alla fine l'abbiamo persa. Sono sicuro che celebriamo e possiamo migliorare molto.